e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi andremo a fare un breve riassunto un riassunto di quello che è stato per il canale il 2021 e nel frattempo vi elencherò qualche progetto per il 2022 2021 che comunque ha visto il canale crescere abbastanza bene abbiamo più che raddoppiato gli iscritti rispetto all'inizio dell'anno e per questo vi ringrazio a tutti i nuovi iscritti agli iscritti storici diciamo vi ringrazio e vi ricordo per chi non lo fosse ancora che l'iscrizione è gratuita quindi se state guardando questo video e non siete iscritti perché in tanti guardano i video e non sono iscritti iscrivetevi a me fate un grandissimo piacere e comunque date il modo al canale di crescere e di magari aumentare anche un po la qualità dei contenuti e tutto contorniamo noi 2021 che ha visto anche il primo incontro con voi iscritti eravamo davvero in pochi però mi ha dato un po modo di poter provare organizzare comunque qualcosa un test diciamo di organizzazione di girata in moto con gli iscritti e comunque mi piacerebbe appunto nel 2022 poter aumentare quello che è gli incontri con voi e fare in modo che il motociclista solitario non sia più così solitario quindi questa è una battuta un po così vabbè comunque appunto mi piacerebbe aumentare gli incontri con voi magari facendo qualche uscita domenicale qualche moto tendata qualche weekend insieme anche se comunque sarà molto difficile perché organizzare anche con gli impegni miei lavorativi che comunque mi portano impegnato mi vedono impegnato da lunedì a sabato quindi sarà difficile però ci metterò di impegno per riuscire a incastrare qualche weekend qualche domenica per voi 2021 che mi ha visto per la seconda volta fare un giro d'italia in moto passando questa volta per la sardegna dove ho concentrato il maggior tempo del di questo viaggio appunto sardegna che davvero vi consiglio di andare a visitare in moto soprattutto perché è davvero una terra per motociclisti andateci strade fantastiche paesaggi da mozzare il fiato davvero quindi consigliatissima la sardegna poi comunque anche tutto il resto d'italia c'è una sorpresa dietro l'altra guarda passando l'italia io quest'anno proprio l'ho fatta tutta per il secondo anno sono salito poi della sicilia e sono venuto su fatto calabria molise quindi mi sono fermato un pochino in centro d'italia a visitare qualche qualche borgo che comunque mi interessava vedere quindi ragazzi andatevi magari a vedere i video che riguardano appunto questo giro d'italia magari ogni tanto vi metto lei in alto a destra andatele a vedere se non non li avete ancora visti tanto per farvi magari anche voi un programma sul quale città andare a vedere quale giro poter fare io ne ho fatti due due uno diverso dall'altro quindi quest'anno potrei anche fare il terzo e farlo ancora diverso quindi è sempre una sorpresa a visitare l'italia è sempre davvero un piacere però nel 2022 spero di poter riuscire ad andare dove ormai per il secondo anno vuole re andare ovvero caponord una meta ambita per ogni motociclista una meta ambita per me ormai da da due tre anni che sto comunque programmando questa questo viaggio speriamo che quest'anno si possa fare comunque ho un'alternativa che sarebbe che sarebbe comunque la grecia nel caso non si riuscisse col periodo delle ferie a organizzarla perché io pensavo di andare a caponord a luglio fine luglio che diciamo il periodo migliore se non riuscissi in questo periodo vedrò un po le ferie che mi daranno se restiamo verso agosto settembre così ancora magari si riuscirà a fare caponord se mi va oltre sicuramente andrò a ripiegare sulla grecia oppure se ancora la condizione pandemica ce lo impedirà farò un ennesimo giro d'italia terzo giro d'italia quindi diciamo ci sono queste tre opzioni per il 2022 io in primis metto sempre caponord sperando davvero di riuscirci in breve poi sto pensando anche a portarvi nuovi format magari con la collaborazione di magari qualche negoziante qua in zona che vende articoli da moto poter fare magari dei piccoli video consigli dove magari non so mostrarvi i caschi i perfoni giacche tutte quelle cose lì magari da farvi dare direttamente dai negozianti dei consigli quale scegliere perché sceglierlo tutte quelle cose lì però lista sta un po anche se riuscirò a trovare il negoziante disposto a fare questa cosa qua perché comunque per lui sarebbe pubblicità gratuite perché non chiedo niente e per me sarebbero contenuti in più da portare quindi il lavoro è più per me contenuti in più per voi e comunque pubblicità per il negoziante quindi nel caso avete un negozio qua in zona a bergamo di articoli da moto e volete siete interessati un po a questa collaborazione ragazzi magari scrivete un commento scrivetemi in privato e poi un modo lo troviamo per contattarci e poi facciamo nascere il tutto intanto io comunque cerco qualche negozio qua in zona se è disponibile a fare questa cosa in più volevo magari ogni tanto portare dei piccoli video consigli su quello che è il viaggio in moto quello che già faccio ogni tanto però portarveli un po più dedicati video consigli su tanti argomenti cosa per come prenotare come organizzare la moto tutte queste cose qua piano piano magari qualche video ogni tanto buttarvi lì video consigli ditemi un po voi la vostra nei commenti così ho un'idea di cosa ne pensate soprattutto magari questa rubrica potrebbe interessare a gente neofita che comunque ci vuole cimentare nei viaggi in moto per la prima volta quindi sicuramente non andrò a dare consigli a gente che viaggia da vent'anni anzi magari saranno loro a dare consigli a me io sono sempre ben ben disponibile a prendere critiche e avere consigli da parte vostra quindi ragazzi nei commenti è sempre aperto i commenti sono sempre liberi io non censuro mai niente a meno che vada a infierire a comunque essere maleducato a me va bene tutte le critiche tutti i consigli mi van benissimo ma la maleducazione nel canale non è accettata sono io che banno anche se siete iscritti non mi interessa vi elimino dal canale tutto va bene ma non la maleducazione quindi questi un po quest'idea di questi nuovi format ditemi un po voi cosa ne pensate magari farò un breve ogni tanto farò degli short e magari dei post posterò magari dei sondaggi dove magari vi chiederò cosa ne pensate magari del format che vorrei fare così almeno ho anche dei feedback da parte vostra visto che youtube da poco mi ha consentito di fare i post posterò un po' di più nel 2022 sperando che già dall'inizio di quest'anno spero di raggiungere finalmente i 1000 iscritti perché da lì davvero si potrà iniziare a ragionare su quello che è ingrandire il canale fare comunque progetti per il canale anche per il futuro avvenire perché diciamo dai 1000 iscritti si può aprire un mondo che comunque fino ad allora su youtube non c'è quindi un altro buon proposito per il 2022 è anche quello di portarvi qualche test drive in più diciamo concessionari permettendo e possibilità di provare le moto permettendo vorrei portarvi qualche test ride in più ci sono delle moto che stanno uscendo nuove in questo 2022 e piacerebbe anche me andarle a provare quindi se usciranno i test ride andrò di filato a provarli e niente ragazzi vi ringrazio di aver visto anche questo video vi ricordo di lasciare un bel mi piace e se non l'avete ancora già fatto iscrivervi al canale niente spero che per tutti voi sia un 2022 pieno di viaggi in moto di giri in moto e di tanta felicità io ragazzi concluderei qua e alla prossima ciao ciao ciao